Ciao ragazzi e ragazze, avete visto bene che la mia wifi non funge, non funziona, non c'è verse a quest'ora, mi sono ostinata a farla a quest'ora ma non c'è modo, quindi io le posso fare solo la mattina le dirette, per cui mi dispiace per chi si è collegato ma vi faccio questo video espresso con tutto l'amore che ho dentro, non vi preoccupate comunque eravamo collegate, eravamo 200, poi siamo diventate 150, poi 130, si crea nervosismo se non mi sentite, invece così eccomi qua, tutta per voi, vi voglio bene e registro immediatamente questo video su youtube per voi. Allora stasera è una magica vigilia di luna piena, è il 7 aprile, la luna piena arriva alle 3 e mezzo di mattina, quindi adesso è ancora vigilia, è ancora in espansione la luna e alle 7 di sera, quindi fra pochissimo, sorgerà alla vista di tutti ed è una luna grande perché è al perigeo, al perigeo cioè è il punto più vicino alla terra, quindi sarà bellissima andatela a vedere e andate a parlare con la luna. Il rituale eccolo qua ragazzi ve lo faccio vedere, abbiamo l'acqua informata, io l'ho fatto con la salute del corpo e anima, le pietre, i gioielli, i desideri e anche il Bancomat, allora il Bancomat ragazzi non ci contate troppo però comunque serve per dire ok io lo carico con l'intenzione che ogni volta che lo inserisco nella macchina Bancomat mi dia sempre i soldi, quindi sia sempre carico il mio conto ok? Vabbè ci rido perché effettivamente questo non è che sia diciamo così che la luna possa farci molto, qui tocca molto a noi andare a riempire quel conto corrente però noi affidiamo alla luna anche le cose di cui non ci vogliamo occupare più di tanto quindi oltre a dire luna mandami quello che ti chiedo perché perché mi serve per la mia evoluzione per stare bene ma mandami anche quelle cose che di cui mi voglio non mi voglio occupare più di tanto grazie. Ragazze immaginate che l'arcangelo Aniel stia arrivando qui davanti a voi con un bel respiro chiudete gli occhi. L'arcangelo Aniel entra dentro di voi perché è fatto di luce pura luce divina è l'arcangelo della grazia e della luna ed entrando dentro di voi vi faccia entrare nella parte migliore di voi e quindi preghiamo Aniel in questo modo arcangelo Aniel grazie di essere in me grazie di farmi scrivere i desideri che mi servono per la mia evoluzione che mi fanno stare bene solo all'idea di realizzarli e grazie comunque perché sto già bene perché la mia vita è già bella e completa ho la salute ho tante cose ho realizzato già tante cose nella mia vita certo se realizzassi anche queste sarei ancora più felice ancora più soddisfatto perché sarebbero esperienze nuove per me quindi trovarmi con una casa nuova trovarmi con armonia in famiglia trovarmi con quello che chiedo darebbe ancora più spinta la mia vita quindi grazie di farmi sperimentare tutto questo oppure qualcosa di meglio grazie di dare vigore mandare la luce lunare per dare armonia e vigore e forza alla mia acqua che io bevo con l'intento grazie per benedire i miei gioielli le mie pietre i miei oggetti le mie medicine i miei integratori il cibo quello che mi serve di amplificare e rendere forte con la luce lunare ti amo per tutto quello che sei per quello che fai per me per la luce che mi dai e per la gioia di questo rituale e io aniel ti chiedo che tutte queste anime che guardano questo video siano benedette benedette da te si sentano delle prescelte sentano le loro vibrazioni alte così alte che siano capaci di fare miracoli nelle loro e nelle altrui vite grazie aniel ti amo vi amo mi dispiace di aver avuto uno wifi che non ha funzionato e che ha creato un nervosismo in qualcuno perdonami ti prego divino che sei dentro di me se è stato un tentativo non basato su certezze perché già sapevo che la mia wifi non era non era buona quindi perdonami di vero un programma che avvicina le persone da un lato e poi le riallontana di nuovo non so da dove viene questo programma ma ti prego divino che sei me portamelo via portami via questo programma fammi essere in pace con me stessa con gli altri fammi dammi davvero l'opportunità come chiedono i miei desideri di aiutare gli altri affinché le persone raggiungano obiettivi sempre più importanti anche con il mio aiuto ti amo divino che sei me mi hai già perdonato mi hai già lasciato andare luna dammi l'incanto stasera dammi l'incanto di contemplarti e di e di sentirmi uno con l'universo e fallo per tutte queste persone che guardano questo video falle sentire uno con la vita con l'immensità e la bellezza dell'universo e che si sentono benedette e figlie di dio in grado di cambiare la loro vita e la vita dei loro cari e già che ci sei fai in modo che questo virus ristabilisca le priorità queste fra le mie richieste per tutte le persone e che porti benessere al pianeta terra e anche nuova consapevolezza in tutti di quello che davvero conta nella vita la salute la gioia dello stare insieme lorista e ristabilire relazioni armoniose grazie luna grazie annie ti amo vi amo lunari vi chiedo di nuovo scusa ma va bene così so che mi avete già perdonato buona vigilia di luna piena andate a gustarvi la luna state in ascolto con lei in silenzio e amatevi tanto perché ve lo meritate di essere amanti di voi stessi grazie a tutti